L'incidente nel primo pomeriggio di sabato 5 ottobre, poco prima delle 13, sulla strada provinciale 222, poco dopo il ponte sull'Orco, arrivarono la Canavese. A scontrarsi una Volvo E70 condotta da un uomo di 62 anni e accanto a lui una donna di 67 anni e una Fiat Panda con a bordo due donne residenti ad Aglie, di 60 anni e 69 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, le ambulanze della Croce Rossa di Rivarolo e Castellamonte e la polizia locale di Rivarolo. Ferite in modo lieve le due donne che erano a bordo della Panda. Dopo le prime cure sono state trasportate all'ospedale di Ivrea, illesa alla coppia sulla Volvo. La dinamica è al vaglio della polizia locale. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione delle vetture.